Il Tar ha dato questo parere, ha respinto la sospensiva, la sentenza del 14 marzo, cosa ne pensa? Penso che non è una partita chiusa, penso che nessuno di noi, di tutti i protagonisti, ha trovato la soluzione giusta, è evidente, quindi nessuno si deve responsabilizzare, tanto meno io, però non la considero ancora una partita chiusa. Ha incontrato le squadre? No, non le ha incontrate. Incontra? Se hanno bisogno, noi siamo qua, abbiamo un procedimento aperto, quindi siamo in attesa di una risposta dal loro punto di vista.